Cari amici, vi do una bellissima notizia, anche se probabilmente già siete a conoscenza di quello che sto per dirvi. Finalmente sabato e domenica andremo a votare per l'Europa, cioè il nostro voto servirà per eleggere quei deficienti che poi andranno in Europa e cercheranno di dare il peggio di loro stessi come siamo abituati, ma comunque non è questo il problema, il problema è che c'è stata una campagna elettorale che è durata più di un mese, forse due mesi, durante questo periodo ci hanno bombardato di fesserie, voi avrete sentito, ma sia la sinistra che la destra, che litigano, sembrano dei galli nel pollaio che si beccano ma non dicono mai niente che possa interessare a noi poveri tapini che poi andiamo a votare. Tanto è vero che la modestia della campagna elettorale è così alta che mi risulta che pochi abbiano voglia di recarsi al seggio. Io dico che questo è sbagliato, è meglio andare a votare e votare il più pirla che trovate sulla lista perché almeno ci divertiamo un po', almeno decidiamo. Tanto comunque pirla sarà quello che ci governerà in Europa, tanto vale che diamo il nostro contributo e poi ci divertiremo allo spoglio che avverrà naturalmente il lunedì perché non si può sapere in anticipo come vota la gente. La mia sensazione è che la gente non è posta più di questa politica così becera, così rasoterra e che non ci appassiona. Però va bene, facciamo questo sforzo come si dice a Napoli e andiamo a votare e vediamo che succede. Vedrete che ci divertiremo anche un po'. Nelle disgrazie a volte si trova il modo anche per ridere.